Non ci siamo, non ci siamo No! 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 Bravi! Ce l'hai! Ce l'hai! Bravo! Allora, oggi faremo una gara di velocità che in realtà non è una gara per vedere che è più veloce ma è una gara per vedere a che punto siete oggi nella velocità, nella vostra forza esplosiva, ok? E ovviamente per allenarci di conseguenza sono 10 metri da fare alla massima velocità Il test finisce sulla linea rossa, sul cinesino rosso, ok? Quindi andate a cannone e cercate di passare abbastanza vicino alla fotocellula Questa quando la attivate dopo si attiverà quella là La partenza si fa da qua Mi raccomando, non fate movimento col braccio prima se no parte prima la fotocellula Partite da fermi, quindi non vale saltare Da qui vado, pam, e parto Forte fino in fondo Prendetevi proprio come idea di arrivare forte sul cinesino rosso, ok? Sono dritti, ovviamente Quando vuoi? Vai, 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 forte, forte, veloce, veloce Viste! 2,29 Vai, vai, veloce, 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 forte, forte, forte 2,12 Quando vuoi? Non devo rifare, non è andato Non è andato, non è andato Non è andato Non è andato 2,25 2,25 Ale, di fare il record, eh Oh, Ale, oh, Ale! Vai, 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 vicino Sai quella curva? 2,34 2,01 2,12 Vai, 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 vai Spingo, spingo, spingo Ho preso una curva anche lei 2,28 Ma si previ 2,19 Lo faccio io Pro Piano 3,09 1,22 2,13 Allungate il passo Più non avete grip in partenza Dovete stare bassi Adesso faccio meno di loro 1,21 Ehi, hai visto come si va? Vai, 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 vai Questa è un po' falsata Perché è? L'hai spinto E quindi cosa? Quanto hai fatto? 2,14 Non è falsato, dai Focus Quando vuoi? Lui per l'autobus Che ora c'è? L'autobus, l'autobus, l'autobus 2,22 Vai, 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 vai Questo è buono Buono Meglio rispetto a prima 2,30 Vi sentite pronti? Lieve un po' più dietro Quando vuoi 2,08 Vado Quando vuoi Bravo Che buono 2,09 Quando vuoi 1,90 Quando vuoi Vai, vai, diegone Vai, vai, vai 2,28 Vai, 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 vai Che buono Bravo Bravo 2,01 2,01 Eh ma perché è ciculi 2,04 Quando vuoi 1,83 1,83 Quando vuoi 2,08 Eh, Cristian Non devi rallentare Hai rallentato prima Hai perdi dei centesimi 2,05 Quando vuoi 2,08 Bravo Vuoi farle uno Pecco Non posso perdere da Peter Primo No, il secondo Ah, scherzone Via 1,92 1,92 1,92 Allora, perché abbiamo fatto questo test? Per vedere il nostro scatto Per avere parametri in cui potremo allenarci Esattamente Allora, il calcio è uno sport dove la forza esplosiva Quindi la velocità nel breve, diciamo, per farvela più semplice La forza che posso esprimere in un tratto breve di campo È fondamentale per saltare l'uomo, per guadagnare spazio, per andare a far gol Ok Noi l'abbiamo fatto senza palla Poi magari lo proveremo anche con la palla Però, ricordatevi una cosa Noi questo test lo rifaremo E vedremo se sarete migliorati o peggiorati Lì non si scappa Ok Parola d'ordine Divertirsi Per l'Enjoy di Off Samuel Che come vediamo ha vinto quasi tutte le partite Pareggiato Una partita è persa un'altra Ma quest'oggi abbiamo il progresso In casa dell'Enjoy Vediamo come i ragazzi di Off Samuel Giocheranno questa partita Contro una squadra blasonata come il progresso Subito Peter che recupera il pallone Per Diego Bellissimo il pallone Bella, 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 bella L'inserimento Al fatto qua Mr. Off Samuel Che applaude i suoi giocatori Attenzione Parte il tiro Da parte del numero 10 del progresso Marci Para Solo Peter Benissimo con il gioco Di gambe e di fisico Poi prova il diagonale Va bene Peter Applaude Mr. Off Samuel Solo Provano una ripartenza dal basso L'Enjoy ruba palla Il progresso Attenzione Parte il tiro Sopra la traversa Ancora il progresso In contropiede Esce il portiere Bravissimo Poi a porta vuota Non riesce a segnare L'1-0 Progresso vicinissimo al gol Attenzione Tan Giulio Peter Appoggia ti anche Appoggia ti 1-2 1-2 Bravo Attenzione Ancora il pallone Per il progresso Che continua Sfuriata offensiva Parte il tiro Pallone che Inisce sul fondo Calcio di punizione Da parte del numero 10 E la parata Ancora una volta Da parte del portiere Dell'Enjoy Veramente bravissimo E attenzione Calcio di punizione Per il Per l'Enjoy Prova un tiro Sul primo palo Per il nome che però Viene Comodamente parata Ancora il progresso Con il numero 9 Poi parte il tiro Ancora la parte Del numero 9 Ancora la difesa Del progresso Ancora il numero 9 Ancora il portiere Dell'Enjoy Benissimo Qui Peter Peter bravissimo Bravissimo Con un gioco Bellissimo Sia di gambe Che di fisico Il pallone che si Perde sul fondo Ottima la diagonale Di Peter Che sta giocando Benissimo Qui il tunnel A Sofia Attenzione Poi parte il tiro Che però si perde Sul fondo Ad armi pari Ancora Mistoff Samuel Che cerca di Incoraggiare I propri compagni O meglio I propri giocatori Poi attenzione Peter Gol meraviglioso Su Il rilancio Del portiere Peter anticipa In pallonetto Il portiere avversario Grandissimo Gol Di Peter A Fria Bellissimo Bellissimo E finisce qui La prima Mini partita Siamo molto in affanno Poco lucidi E stiamo giocando Veramente poco Iniziamo ad attivare La parte buona Del cervello Siamo lenti Palla al piede Contrasti su contrasti Dobbiamo essere più veloci E muoverci di più Se staccate la spina Ci fanno go E ne prendiamo 4-5 Tanteli con la testa Ok Non rischiamo niente Giustamente cerca di riattivare I neuroni Mister Off-Samuel Pronti via Però subito Il progresso Che si porta in vantaggio Nella seconda mini partita Dai forza Parole che non hanno Sortito effetto Probabilmente Però Ricordiamo che La prima mini partita L'ha vinta L'Enjoy Dai forza Ancora Mister Off-Samuel Che cerca di incoraggiare I suoi Di messa laterale Il pallone per Peter La sponda Parte un Tiro cross Guardata Il portiere del progresso Attenzione Ancora L'Enjoy In fase offensiva Un pallone recuperato Parte Peter Un tiro sul primo palo Portiere che fa Buona guardia Ancora Il rilancio Benissimo La stop Ma calma Ma calma Punta Metti il corpo davanti Cristian Il tiro Che però Si perde sul fondo Infatti Mister Off-Samuel Dice di proteggere palla Ancora Il tiro del progresso Benissimo Ancora il portiere Dell'Enjoy Attenzione Qui un calcio di punizione Dal limite dell'aria Sempre una zero progresso Attenzione Parte il tiro Pallone che Stava per passare Poi un autopalo Una giocata un po' particolare A parte il difesore del progresso Che ha rischiato di farsi autogol Poi ancora il tiro Poi ancora il tiro C'è il tiro Piter Molto particolare Quello che è appena successo Perde palla In fase difensiva Il tiro Da parte del progresso E la rete 2-0 Non ci siamo Non ci siamo La squadra non c'è Peccato Ora prova una sortita offensiva E questo è un bellissimo gol Da parte di Paolino Grande assist di Christian Sul secondo palo Paolino Chiude sul secondo palo 2-1 Progresso Per questa In questa mini Partita Seconda mini partita Ma attenzione Perché ancora Allen Joy In fase offensiva Buonissimo lo stop Buonissimo il tiro Pallone veramente Che si perde sul fondo Di pochissimo Ce l'avevi in appoggio Ce l'avevi in appoggio Bravissimo Attenzione Calcio d'angolo Peppe 2-2 Grandissimo calcio d'angolo Sfiore di testa Peter Bravi raga Dai 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 Ancora Mistro Samuel Che carica Sembra essersi ripresa La squadra Con questo Bellissimo gol Da calcio d'angolo Più occasione Per il progresso Palone che però Si perde sul fondo Cerca pressing Tutto a campo Len Joy Per portare a casa Il secondo La seconda vittoria Qui ci prova Peter Da tre quarti campo Palone che si perde sul fondo Finisce in parità Bello Siamo dunque alla terza partita L'occasione per Len Joy Bravo 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 Buonissima la chiusura Da parte della difesa Del progresso Calcio d'angolo Ancora una volta Il colpo di testa Vicinissimo Il gol Len Joy Va bene va bene va bene Mi sembra Avere un piglio diverso In questo terzo tempo Diego tirò una mina Bomber Diego Bomber Diego Bomber Diego Sta affilata potente Palone che passa sotto le braccia Del portiere 1-0 Enjoy Sofia in fase difensiva Ottima la chiusura Poi parte il cross Ancora Sofia Ancora la difesa Delle Enjoy Che cerca di Liberare Il pallone che però Rimane dentro l'area Occasionissima per il progresso Palone che però Si perde sul fondo Sofia con un intervento Da Mastino Vero Bravissima Ma il pallone ancora per il progresso Ma ancora recupera palla Questa volta Capitano Giulio Pallone che va Destra e sinistra dal campo Qua l'occasione ancora Per Len Joy Bravo Giulio Ancora con Giulio Applaude Mister Samuel E attenzione Numero 7 Del Enjoy Con un bellissimo tunnel Un bellissimo dribbling Però Porta al tiro Attaccate il progresso Rilancio lungo il colpo di testa Un calcio di punizione Parte il tiro Cross E la parata Da parte del portiere del progresso Calcio d'angolo ancora A favore dell'En Joy Tutti in the box Il colpo di tacco Non ho capito Come ha fatto Gol Giulio Ma lo fa Bellissimo Veramente stupendo 2 a 0 Enjoy E attenzione Questa terza Mini partita Si sta Direzionando Fronten Joy Qui ottima la giocata Da parte dell'attaccante Del progresso Calcio di punizione Con Errol Numero 7 Attenzione Parte il tiro Pallone che però Troppo alto Sopra la traversa Niente da fare Molto molto bene Oggi Non era Semplice E non è semplice Perché Ma anche all'ultimo tempo Bisogna concludere Bene E fare bene Siamo riusciti di squadra A saper resistere E questo è fondamentale Dai Dai bravi Bravi tutti Bravi tutti Bravi Bravi Vediamo questo ultimo tempo Come finirà Grandissima la giocata Attenzione Per l'Enjoy Il dribbling Qua un calcio di punizione Ancora una volta Vediamo se Riuscirà ancora A trasformare Il tiro Rasoterra La parata del portiere Attenzione Recupera la palla Peter Strapotere fisico Peter Strapotere fisico Peter Attenzione Prova il diagonale La parata del portiere Qui Non riesce La ribattuta Poi prova Giulio Il pallone però Troppo alto Peter con il tacco Il lob Che finisce sulla traversa Forse è entrata Non si è vista E poi ancora Sulla ribattuta Sul fondo Occasionissima Enjoy Veramente un peccato Poteva essere Il gol Che però Attenzione Arriva dall'altra parte Da parte del numero 7 Delenjoy Del progresso Che però Attenzione Fa un bruttissimo gesto Ancora un brutto gesto Cose che non vorremmo Assolutamente vedere Nel campi da calcio Un po' di nervosismo Da parte del numero 7 Del progresso Si arrabbia giustamente Il piccolo delenjoy Un'altra traversa Subito Sul rinvio Giocata Sontuosa 1-0 Progresso Intanto 2-0 Progresso Con il bomb Il numero 9 Un bellissimo Diagonale E un bellissimo Gol Da parte Dell'esterno Sumerio Cristian 2-1 Attenzione Accorce di distanza Neljoy Attenzione Diego Diego L'apertura Bellissima Non tira subito Occasionissima Poi bravissimo Il partiere del progresso Come un gatto A recuperare il pallone Poi ancora il tiro Occasionissima Injoy Per pareggiare Peccato Poi parte il rilancio Il contropiede Ancora il numero 7 Con un pallonetto E la palla Che finisce in rete 3-1 Progressa 4 minuti Dalla fine Peccato Poteva essere Due pari E invece 3-1 Progresso Ancora il progresso In fase Offensiva Prova il dribbling Il numero 11 Salta tutti Tranne l'ultimo giocatore E qui c'è il 4-1 Attenzione Attenzione E qui ottimo il dribbling C'è Peter dentro l'area Parte il tiro La parata E poi la rete Attenzione Recupera 4-2 Enjoy O meglio 4-2 Progresso Finisce così E il risultato complessivo Dice Enjoy 3 Progresso 2 La vittoria Del team di Off Samuel Bravissimi I piccoli Delle Enjoy Ragazzuoli Si è conclusa Un'altra Splendida gara I ragazzi Inizialmente E giustamente Erano un po' in difficoltà Come è stata La prima partita Con un sole Un caldo Importante Però Ho apprezzato Il fatto che loro Siano riusciti A star lì con la testa E a riprendere Poi il gioco E riprendere in mano Il dominio Un po' Della partita Farei entrare Giulione Per chiederti Come hai vissuto la partita In primo piano Siccome L'hai giocata Allora Inizialmente Ero molto affaticato Però poi dal secondo tempo Riuscivo molto meglio Cioè Mi ero sbloccato il fiato Ok Ti sei bloccato il fiato Quindi riuscivo a correre molto di più Eh ragazzi Oggi purtroppo Il nostro difensore di ruolo Si è fatto male E quindi dopo L'abbiamo dovuto sostituire Purtroppo Perché È un fulcro Della squadra Signori Detto questo È stato un grandissimo Episodio Continuate a seguirci Lasciate like Condividete il video E iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Da L'enjoy Aspetta C'è una mamma Che vuole Sfruttare Venga 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 Anche i nonni Mettete like Ci suggeriscono Dalla regia Perché è timida Può venire Se vuol dire qualcosa Venga pure È aperta a tutti Vede signori E allora Ci vediamo In un grande prossimo video Da enjoy è tutto Bello ragazzi Let's go Nooo Nooo Grazie a tutti